Un'alunna si è appena accorta della mia presenza, io sono molto contento perché ho finito la scuola, però oggi sono tornato, mi farò vedere dai professori, sto riprendendo io perché non trovo un cameraman, mi farò vedere dai professori e vediamo se ne accorgeranno. Un altro se ne è accorto adesso, questa è la proprietaria di questo posto dove mi sono seduto adesso, non mi aspettavo che ci fosse proprio lui, buongiorno, se ne accorgerà? Il primo professore se ne è accorto e mi cazzo fuori subito. Mi sto girando per i corridoi in cerca di prof, ma uno è già arrivato. Oh, qua c'è una prof, una prof prima. Vai via! Ciao! Ho trovato un complice, il tecnico di laboratorio mi aiuterà per un'altra camera camera. Prego! Prego! Scusate il tasto! Preferite! Grazie. 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 Ma ti ammoggiato? Mi sento andato in terza. Sono andato male all'esame. Eh? Infatti mi sembra bene. Grazie. Ragazzi. Venite. Fate le fermate a questi qua che devono ancora facciarli. No. No. Facciamo come faceva Nelson dei Simpson. Guarda qua. Questa è un pazzo. E' 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 un pazzo. Ah, uè. Un duro anno ci aspetta. Ma sarà peggio per voi. Salutate le amici del TG College. Ciao. 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 Sono in ritardo, scusate. Vieni. Dai. Ancora? No. No. No, ve lo spiego subito. Sorridete. Siete su TG College. Non so se sapete cos'è che c'è. È venuto a prendere il fogliottino. E te prendilo il diploma. Io l'ho già preso il diploma. Bravo. Siamo venuti a salutare. E a mandarli tutti, a mandarli su telemodo. Che classe no, terza. Signor Preside, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Sono un ex alunno di questa scuola. Sì. Lei era al San Carlo. Sono venuto nel dicembre del 2001 con la consulta a fare un'assemblea straordinaria per mandare il presidente agli stati generali. Bene. L'ho già visto al TG College una volta. Questa sarà la seconda. Ok. Arrivederci. Vai via. Sono tornato. Eccolo. Andare in quarta via. Voi siete ancora in gabbia. Andate in grava va. A tra 찾아vi. Island there is also vanilla va via 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 via.